Ringrazio il Presidente della Repubblica per aver assistito a questa cerimonia e mi permetto di domandargli se gradisca rivolgere qualche parola. Volentieri, magnifico Rettore, la ringrazio per l'invito a partecipare in questa forma a questo straordinario momento del suo Ateneo e rivolgo un saluto di grande cordialità. All'esistente ecclesiastico dell'Ateneo, all'Arcivesco di Milano, al Presidente del Tognolo, al Corpo Accademico, al personale amministrativo e tecnico e particolarmente alle studentesse e agli studenti della Università. Cento anni rappresentano un motivo di una ricorrenza di grande importanza. Non per il lungo tempo trascorso, ma per gli eccellenti risultati conseguiti durante questo tempo. Celebriamo questa ricorrenza in una condizione, come lei ha ricordato, magnifico Rettore e particolare, che condiziona fortemente lo svolgimento degli incontri, ma che consente di mantenerne inalterato il significato e tutto il valore. Vorrei, in questa condizione, associarmi al suo ricordo di coloro che, nell'ambito della Università Cattolica del Sacro Cuore, maestri, colleghi del corpo docente, amici dell'Ateneo, sono rimasti vittime del Covid. E vorrei, in queste condizioni particolari, manifestare l'apprezzamento per l'Università per avere mantenuto la sua funzionalità, attenuando così le restrizioni e le privazioni che gli studenti hanno subito durante questa lunga emergenza. Siamo un secolo dalla fondazione dell'Ateneo, da quando è sorta dalla volontà di quelle grandi figure che lei ha poc'anzi ricordato, l'idiatore Giuseppe Toniolo, padre gemelli, con la sua visione e la sua grande forza realizzatrice, inarrestabile forza realizzatrice. Ed Ernesto Lombardo, una singolare, straordinaria figura di imprenditore che ha compreso l'importanza del progetto e ne ha reso possibile l'avvio. E poi, come l'ha ricordato Armida Barelli, Viconecchi, Monsignor Olgiati, da quel momento il contributo che la vostra Università ha recato e continua a recare al nostro Paese per la sua vita e la sua crescita è stato di grande rilievo e si è espresso nei tanti momenti che il nostro Paese ha attraversato. E vorrei riprendere il suo ricordo del grande contributo che all'Assemblea Costituente è stato fornito da laureati, da docenti o da laureati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo contributo che è stato espresso e continua a esprimersi con i suoi specifici caratteri e valori dall'Università Cattolica del Sacro Cuore alla vita della nostra comunità nazionale ha manifestato che si avverte questo senso di comunità che il nostro Paese ha visto ribadito con grande nella sua fondamentale importanza con forza durante l'emergenza della pandemia che ci ha ricordato come ciascuno di noi dipenda fortemente da tutti gli altri. E questa sensibilità si è espressa in maniera particolarmente importante nell'opera del Policlinico Gemelli, nell'impegno che dai docenti più noti ai giovanissimi specializzanti, agli infermieri, è stato spiegato in questa emergenza. Tutto questo rientra in quella che potremmo chiamare la... E lei ne ha fatto cenno nella sua relazione per la quale la ringrazio, così densa di riflessioni e di sollecitazioni a riflettere in maniera profonda. Rientra in quella che potremmo chiamare la missione sociale, civile, di tutte le realtà e le presenze che nel nostro Paese contribuiscono con qualunque segno e ispirazione al bene comune. Particolarmente quelle che, essendo orientato alla formazione, come lei ha detto, magnifico Rettore, dell'Homo Civicus, creano, danno un'impronta al futuro del nostro Paese, rammentando, come lei ha fatto, che questi caratteri dell'Homo Civicus sono italiani ed europei, mantenendo quell'apertura che ha sempre contrassegnato questo Ateneo. E questo contributo di orientamento è manifestato dagli oltre 300.000 laureati e diplomati dai 45.000 studenti che oggi frequentano l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vorrei aggiungere, se mi è consentito, riprendendo una esortazione di Monsignor Delpini, che questa formazione non può che ispirarsi a quella che, come Presidente del Tognolo, ha richiamato, evocato col termine di inquietudine, con gli avvertimenti, i caveat, le esortazioni che l'Arcivescovo ha affiancato a questa evocazione di inquietudine. Io credo, in realtà, Eccellenza, che questa inquietudine, questa condizione di sentirsi cittadini al mondo, ma al contempo pellegrini al suo interno, sia in realtà comune a tutti in qualche modo, qualunque siano le convinzioni che ne vengono professate. perché, in fondo, riflette quel senso di incompiutezza che accompagna la condizione umana, che induce costantemente a pensare oltre, a cercare costantemente nuove esperienze e nuove conoscenze, la parte di chi avverte questo senso e questa sollecitazione. Questo è un senso di non appagamento, che in realtà è alla base anche di ogni sorso di ricerca, della ricerca scientifica in ogni campo, e questo è il carattere che rende attrattivi gli Atenei e che rende preziosa la loro azione nel nostro Paese, fondamentale per il suo presente e per il suo futuro. Per essere educatori, vorrei richiamare qui delle parole ben note, di straordinaria importanza però di Padre Gemelli, per essere educatori, occorre dar credo ai giovani, a quei giovani che, nel succesi delle generazioni, mantengono sempre giovane un Ateneo, quale che sia la sua anzianità di fondazione. Grazie all'invito, magnifico Rettore. Auguri e buon anno accademico. La ringrazio, durante la cerimonia, dichiaro aperto l'anno accademico 2020-2021 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, centesimo dalla fondazione. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.